vi presento i nuovi panieri per la stagione 2017 di casa tubertini è una gamma composta da tre panieri made in italy che parte dal jack che era il paniere di entrata passa lo yellow che è il paniere ideale per tutti gli agonisti fino arrivare al top di gamma molto esclusivo che è il black che è questo paniere che ho davanti a me tutta la gamma è una gamma tetra quindi a quattro gambe dove il telaio è stato ulteriormente migliorato alleggerito quindi un telaio molto molto robusto però allo stesso tempo leggero il jack è un paniere di entrata però molto molto completo robusto come gli altri ha un telaio sempre quattro gambe e ha la caratteristica di un vano che abbiamo voluto posizionare sotto il modulo dove poter alloggiare tutti gli accessori che necessitano in una sessione di pesca viene fornito solo in versione full con il piatto porta esca laterale lo yellow è un paniere studiato per il pescatore più esigente abbiamo ridisegnato il telaio quindi un telaio più leggero molto molto robusto molto stabile quindi adatto a essere posizionato su tutti i terreni viene dotato di tutta una serie di accessori nella versione full come lo vedete qua montato quindi con barra piatto laterale 90 gradi per montare il tulipano e appoggia cani laterali un modulo due cassetti e gli avvolgilenze nella parte inferiore del vano abbiamo volutamente evitato di montare la valigetta perché è possibile sia a montare il modulo per paniere alla valigetta mk oppure una nuova borsa in eva studiata appositamente per essere alloggiata nel vano inferiore del paniere il top di gamma è il paniere black è la versione black è un paniere molto completo disponibile solo in versione full come lo vedete corredato in questa versione piatto allungabile piatto porta esca laterale la barra a tre posizioni molto comoda che può essere girata e essere utilizzata per spostare la canna in tutte le posizioni o durante la pasturazione per posizionare la canna in tre posizioni fisse modulo inferiore a due cassetti quindi la valigetta estraibile a due vani da 40 mm modulo in alluminio quattro cassetti frontali quindi un modulo di grande pregio una seduta realizzata in un materiale molto particolare che è un materiale che viene utilizzato per i sedili delle auto sportive idro repellente molto comodo non si scalda nelle giornate più calde ed è perfettamente lavabile quindi un paniere molto esclusivo dove abbiamo voluto montare le gambe con rivestimento titanium che è una gamba molto esclusiva e questo rivestimento aumenta molto il grip e la tenuta delle nostre nuove crociere che sono montate sia sulla pedana e sul telaio del paniere grazie a tutti grazie a tutti